Ehi la ciurma! Sono Mazzetess ed eccoci in un nuovissimo video di Maintest Come sempre eccoci qua nella nostra bellissima casetta Spoglia, spoglissima, no vabbè aperte le ceste Comunque, come avrete visto, perché di sicuro qualcuno sarà stato così attento da vedere quel unknown block qua fuori Questo, visto? Per chi non lo sapesse, questo qua, che cos'è? Che cos'è? Proviamo a raccoglierlo Come vedete anche nella chat mi dice Item flower, flower cotton not defined L'unknown item con la sua texture, diciamo Che è molto brutta perché è così da Credo almeno dalla versione 0.2 di Maintest Se non da prima addirittura E la texture Oh guardate che bel tramonto Dopo vi spiegherò anche qualcos'altro Che però forse avrete già notato perché siete molto più svegli di me Metto un attimo in pausa No, non va in pausa, che scemo Perché non è ancora... vabbè Ve ne parlerò tra un attimo Andiamo a dormire Vi stavo dicendo, l'unknown item vuol dire che questo oggetto viene definito dal mondo Nel senso, nel mondo è presente Però il sistema, il gioco non sa a che cosa corrisponda Non sa di che oggetto si tratta, insomma Che c'è questo rumore Cos'è? No, in realtà lo so Comunque E di conseguenza ci attribuisce questa texture qua Per mostrare che non sa che cosa sia questo oggetto E quindi non sa come crearlo Lo posiziona là ma gli dà delle caratteristiche Di oggetto non identificato Questo qua perché appunto in questo ultimo periodo Ho aggiornato sia Maintest che le mod che ci avevo installato In effetti, se voi vi ricordate Questa partita l'abbiamo iniziata parecchio tempo fa Non vorrei dire una cavolata ma forse un anno No, forse un anno è troppo Però comunque tanto, tanto tempo fa Con delle versioni, con delle mod vecchie Che non ho più aggiornato da quando ho iniziato il mondo Una di queste era la Plant Life di Vanessa In cui c'erano le Cotton Plant Che adesso non esistono più Cotton Flower Come per esempio quello, quell'altro, eccetera, eccetera L'ho aggiornato e quindi ci sono le novità In più ho aggiunto anche altre mod Le mod in cui gli aggiornamenti sono stati più importanti In realtà sono pari a una Cioè la Technic La Technic avrà tanti più oggetti E tante più cose da fare E per esempio forse ha fissato quello che Credo fosse un bug Che ricorderete Il Mining Drill MK2 Si può trasformare nel MK3 Quindi Aprendo la paradita è stato bellissimo Perché apro l'inventario Come sapete qua in MindTest rimangono le cose nell'inventario Ed eccolo qua Mining Drill MK3 Complimenti Comunque ringrazio anche il numero uno iscritto Che La scuola di Sam Si chiama forse Scusami non mi ricordo Comunque Che mi ha detto Si usa la Creative Grazie E' l'unico che ha commentato al riguardo Nel momento in cui sto parlando Detto questo Vedremo in futuro Tutte le novità della Technic Quindi tenetevi forte Aggrappati alla sedia Per non cadere Dallo spavento Nuove mod Nuove mod Appunto Le nuove mod Saranno Principalmente 5 Si Dovrebbero essere 5 Non ho tolto nessuna Delle altre mod Se non mi ricordo male Perché questi aggiornamenti Li ho fatti qualche giorno fa Perché Ci ho messo un attimo Insomma Per ricontrollare Tutte le versioni Dei vari sistemi Delle varie mod Eccetera eccetera E aggiornare Va bene Si aggiornare Anche la versione di Mindtest Che come potete vedere La 0.4.9 dev Che risale Alla settimana scorsa Dev sta per La fase di sviluppo Va bene Ma questo non ci fermerà di sicuro Dev sta per La fase di sviluppo E quindi è più buggata Ma anche le cose più recenti Diciamo Non lo so perché Uso quella di sviluppo Ma è perché Di solito Sono abituato A usare quella E quindi Utilizzo quella Sempre Sempre Comunque Tutto il tempo Potrei in effetti Per questa Usare quella Non sviluppo Va bene Ritorniamo a Bomba All'argomento All'argomento Nuove mod O cosa abbiamo aggiunto Abbiamo aggiunto Innanzitutto Due che Mi erano necessarie Per gli aggiornamenti Della mod Technic La mod Technic Recentemente Non supporta più L'inventory Plus Unified Inventory Che aveva fatto Real Bad Angel Per la sua Mod Technic Era incluso E noi lo utilizzavamo Per la scorsa Nella scorsa Versione Della mod Come vi ricordate Aveva quelle quattro Schede In cui c'erano Le craft guide Il crafting Gli zaini E Il cestino Forse Sì per eliminare Gli oggetti Se non ricordo male Quindi Ho dovuto Aggiungere Due mod Dovute al fatto Che non esiste Più l'unified Inventory E la prima È Inventory Plus Che mi permette Comunque di Mantenere La mod Delle bag Delle valigie Degli zaini Quelli che puoi portarti Dietro Contena Sì ci metto Un po' per caricare Il mondo Perché ho Parecchie mod Installate su questo mondo Se non vi Se vi Se vi ricordate E Oltre all'inventory Plus Che mi permette Di usare Le Le valigie Ho Aggiunto Craft guide Che in pratica È un Aggiunge Due oggetti Che sono La Craft guide E il Crafting computer Una roba del genere Non mi ricordo I nomi tecnici Che appunto Adempiono Lo stesso Compito Che Spettava prima L'unified inventory O Le ricette Del crafting Insomma Di tutte le mod Di tutti gli oggetti Di tutte le mod Presenti Ammesso che questi oggetti Abbiano una ricetta Di crafting Quindi Queste due Servono per Supplire Alla mancanza Di unified inventory Altra mod Che ho aggiunto E di cui vi sarete Sicuramente resi conto Sia per il rumore Notturno Che qualcuno Avrà potuto Pensare Fosse qualcuno Che vomitava Ma no Non era nessuno Che vomitava Era semplicemente Un Brains Di un Di uno zombie Sì E la mod Creatures E' una mod Che aggiunge Mob Ostili e non Ma è parecchio Leggera Ed è abbastanza Comoda Perché non aggiunge Comunque dei mob Troppo complessi Da sconfiggere Perché io Ho provato La simple Mob No Simple Mob Si chiama? Credo di sì E la Mob framework E entrambe Aggiungevano Dei mostri Alquanto Ostici Oltre allo zombie Che avete Sentito Prima Mugugnare E morire Perché prende Danno Dalla luce Solare E di cui Vedete Nel mio inventario Una rotten flash Cioè Carne marcia Tra l'altro in italiano Aggiungi Anche Queste Bellissime Pecore Che Possiamo Tosare Come? Prendendole a pugni Vi faccio vedere Ok Bene Metto In pausa Ci rivediamo Tra un attimo Rieccoci qua Allora In pratica Quello che è successo È un problema Della mod Creatures Perché L'errore Che mi dava Era L'errore Che Su una linea Del file In cui Definisce Come saltano Le pecore Vedete Come salite Adesso Su quel blocco La Quella pecoraccia La Comunque Nel frattempo Avete visto Che mi ha droppato Della lana Quando l'ho picchiata E Avete visto Anche Una craft Questa roba Ve la spiego Dopo L'ho ripicchiata E mi ha ridroppato Della lana Come in minecraft Rimettono Sopra la lana Una volta Che mangiano Quindi se io La picchio Diventa nuda Mi lascia la lana Girerà un po' Poi quando si fermerà Mangiare dell'erba Tipo Adesso stai mangiando Dell'erba No No E' morta Comunque Ho notato Una cosa Divertentissima Vedete Si sta ingroppando La pecora Ed è ancora più brutto Quando è su un blocco Di dirt Se saltate Addosso Alla pecora Ci sarà Questo movimento Spastico Vedete Ha mangiato Riecco La sua bella Livrea Adesso ci converrà Andare a dormire Suppongo Perché ci sono Quei bei Nostri amici Che vengono Giunti Dalla mod Che sono Gli zombie E Gli spettri Ecco Vedete Raggiù c'è uno Di questi Bruttissimi Zombie Che in realtà Sono abbastanza Delle checche Perché Come vedete Con un pugno Vengono spinti Un sacco Indietro Però Se sono tanti Potrebbero fare Comunque Discretamente male La loro vita E' equivalente A quella del giocatore Quindi Non sono Particolarmente Forti Perché il loro danno Comunque sarà inferiore Di A quello Inflitto Da una spada Però Pugni qua Ci potrei mettere Davvero Eternità Come vedete Se si clicca Rapidamente Non succede Niente Vanno colpiti Dopo Toz secondi Altrimenti Non ricevono danno Ah Andiamocene Volevo vedere Se per caso Ci fossero Degli spetteri Che girano qua Ma non sto vedendo Niente di particolare Gli spetteri Volano Quindi potrebbero Apparire Dall'alto E attaccarci Quando Meno ce lo aspettiamo Gli spetteri Non droppano Assolutamente Nulla Per ora Mentre gli zombie Droppano Della rotta In flash Ecco quello Mi pare Di vedere Uno spettro Esatto Eccolo qua E gli spetteri Hanno meno vita Degli zombie Però sono anche Un pochettino Più fastidiosi Perché comunque Volano Come potete vedere Però questo non muore Diamine Dove è andato? Dove stai andando? Sono qua Ecco E' morto Quanta gente che cammina Andiamo a dormire Magari Conviene Conviene si Perché prendono danno Entrambi 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 Prendono danno Dalla luce solare Di conseguenza Adesso ci sarà Un'ecatombe Appena andrò a dormire Detto questo Questa è la mod Una mod Che ho aggiunto E E' già giorno Si è proprio buttato Per terra Nel senso Per dormire Ho aggiunto La mod Trashcan Che serve per Buttare Degli oggetti Che aggiunge Un oggetto In cui puoi eliminare Oggetti E Inserendoli Al suo interno E poi La mod Travel points Che è una specie di Teleport Solo che E' morto Perché ha preso danno Dalla luce solare E come vedete Ha droppato Della rotta in flash Qua c'è Un Un albero Piantiamo l'albero Facciamo Come I bambini Che piantano Gli alberi Yeah Un altro Non so Voi la facevate La festa No come si chiamava Quella festa dove si piantavano gli alberi Una volta all'anno Boh Non mi ricordo Però c'era una festa dove si piantavano gli alberi Non so La facevate Boh Comunque Però travel points Devo ancora un attimo studiarmela E capire Come funziona In pratica Da quello che ne so Ora come ora Metti un travel point Qua Metti l'altro travel point Da un'altra parte E poi Spostarti da uno all'altro Teletrasportarti da uno all'altro La craft guide Che avete visto prima Nel mio inventario Questa Viene costruita Viene craftata Con Degli stick Con 5 stick In particolare messi A punto di domanda Il punto di domanda Non viene bene Perché naturalmente È una 3x3 Quindi sembra Una P Quasi quasi tolgo creatures A questo punto È un È un problema Proprio della mod Controllerò Adesso se ci sono stati Dei fix Per questa Cosa qua E vedrò appunto Se ci sono delle Delle nuove Zitatà Perché continua a crashare Sempre quel problema Delle pecore Che saltano Ed è una cosa Un po' scomoda Comunque Intanto che Aspettiamo Di nuovo Aspettiamo Per l'eternità Vi racconto Che cosa È successo Con Le Bag In pratica Non le bag Nel senso di Le besgue Il matematico No Le Bag Nel senso di Vali Zaini Ecco Zaini Gli zaini Con la mod Bag Ok È successo Che in pratica Nonostante ci sia Non viene riconosciuta Gli Oggetti potrebbero Risultare Degli oggetti Diversi Da quelli Che sono ora Perché magari Hanno un nome Differente Dalla Mod precedente Alla mod Attuale Ma Tra l'altro Potremmo anche Scoprirlo Facciamo una cosa Guardiamo insieme Facciamo che Guardiamo insieme Allora Qua ho World mods Del mondo Mazet S E abbiamo qua Bags Con Init.lua In Init.lua Come potete vedere Ci sono Tutte Le definizioni Degli oggetti Qua abbiamo La definizione Dei Bag Tours Bag Small Bags Medium Bags Large Bags Small Bags Medium Bags Large Che vengono Craftati Esattamente come prima Come potete vedere Qua c'è la ricetta Se per caso Ancora non lo Non lo sapevate Come interagire Con questi Con questi oggetti In pratica È il seguente modo Register Craft In pratica Registra Una nuova Ricetta di Crafting Che come Output Ha L'oggetto Bags Due punti Small Prima viene Il nome Della mod E poi Il nome Dell'oggetto Recipe Ha Tre Righe Tre Colonne E' una Tre per tre Queste sono Uno Due Tre righe E queste sono Le colonne Quelle tra le virgole Quindi qua Vuoto Stick Della mod Default Cioè del gioco Principale Vuoto Poi Wood Che sono le Wooden Planks Della mod Default Wood 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 Quindi vuol dire Nella prima riga Niente Stick Niente E nelle altre due righe Tre pezzi di Wooden Planks Ed è lo stesso Scrafting Andiamo a vedere Adesso Nel vecchio mondo Che era Questo qua 2612 2612 Andiamo su Worlds Mazze test World mods E qua Abbiamo Dove è Begs Forse era In Technic Nel Unified Inventory Begs Begs.lua Qua Avevamo Il Ah Ecco Vedete Vedete Abbiamo già Delle Già Ecco qua Il problema Nel senso Il problema insorge Per il fatto che Il nome dell'oggetto È differente In precedenza Avevamo Infatti L'oggetto Che si chiamava Unified Inventory Begs Small No Begs Small Begs Small Mentre Nella mod Attuale Qua Abbiamo L'oggetto Che si chiama Begs Due punti Small Quindi Il nome è cambiato Sia perché La mod Non è più La precedente Non è più Unified Inventory Ma è Begs E poi Lo stesso oggetto Ha un nome Diverso Di conseguenza Non viene più Riconosciuto Dal sistema Perché il sistema Dice Non c'è più Una mod Unified Inventory Non c'è più Un oggetto Unified Inventory Begs Small C'è Ok L'oggetto Begs Small Begs Small Ma è un oggetto Completamente diverso Per lui Nonostante Abbia Lo stesso Crafting Della mod Vecchia Però Non avendo più La mod Vecchia Lui non sa Neanche Quale fosse Il crafting Dello scorso Dell'altro Oggetto Di conseguenza Tutte le bag Che ho Costruito Con grande Sacrificio E grande Pazienza E grande 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 Grandiosità Sì Grande Vieni qui Pecora Vieni qui Pecora Guarda come vibra E Di conseguenza Vanno Rifatte Diciamo Perché Bec Begs Non me le riconosce Io avevo degli oggetti Nella prima bag Ma non erano importanti Se non ricordo male Erano Una fornace Una torcia E Una trentina di fragole Quindi posso tranquillamente Ricostruirle E posso tranquillamente Anche ricostruire le bag E Gli zaini Chiamiamoli gli zaini Perché sennò Mi sembra sempre Di chiamare il matematico Le bag E Non va bene Non parliamo di matematica In questo momento Il crafting Appunto Vi sto facendo Vedere la craft guide Che io però Ho già creato Quindi non ne creerò Una seconda Ed è questa E' molto carina Perché posizionata Ci permette di Consultare tutti gli oggetti Che sono presenti Rieccoci bellissimi Ragazzi E ragazze Pesci Pesci Perché di sicuro Ci sono dei pesci Che stanno vedendo In questo video Comunque Crash ancora E quindi Ho deciso Che Installerò Per Per pace Mia e vostra La versione stabile Che ho installato Nel frattempo Ma Ora sto ancora Usando la Development Per non farlo crashare Tutto il tempo Spero che vadano bene Le mod Su quello Ma Speriamo Comunque Questa qua Che cos'è Non so da che cosa Ho aggiunto Questa mod Qua Non me la ricordo Però ci sono dei cibi Molto interessanti Che sarà molto Carino Scoprire Tutti Insieme Appassionatamente Sì Anche questi Divani Qua Molto belli Questi Chain Delle catene Chissà cosa ci fanno Con le catene Non voglio Spero che Ecco Noi Non sappiamo niente Comunque Stavo parlando Del craft pc Che In pratica Si fa Con il craft sign Un glass E uno stone slab Oppure Con un craft pc Sign Un glass E uno stone slab E' una grande alternativa Nel senso O con uno stone slab O con uno stone slab Comunque Vediamo Se questo E' Molto Furbo E fa Se io faccio small Invio No Infatti Si chiude Se faccio small Cerca Cerca La valigia Non si chiama Small Bags Small Perché se cerco Bags Non me la da Se cerco small Non me la da Però Me la deve dare Nel senso L'ho messa La mod L'ho abilitata La bag 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 Small Epp Epp Però Non l'ho vista No Non me la sta Riconoscendo Ma è possibile Che non ci sia qua Ma ci sia normalmente Questo qua Dumpster Cos'è un dumpster? Coel 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 Green Dai E still Ingot Boh Vedremo Che cos'è Un unknown item Wooden trash can È quello che dovrebbe essere Receiver pod Invece Ci da che cosa? Ehi Ho detto Receiver pod E quelli che servono Appunto Per quella mod Di cui Parlavo Prima Della travel points Sono nella 0.4.9 Vi dico Molto brevemente Perché questo video Sta già durando Fin troppo Per i vostri gusti E forse anche Per i miei 0.4.9 Le aggiunte Più importanti Sono Una rivisitazione Delle ombre Di cui non so Le specifiche tecniche Diciamo Però una rivisitazione Per delle ombre Più naturali Degli oggetti La possibilità Di cercare una mod E di scegliere La versione Della mod Dal menu Di inizio Partita Diciamo Prima della partita Hanno migliorato La nebbia E hanno aggiunto Una colorazione Migliore Per l'orizzonte Una sfumatura Di colore Migliore Per l'orizzonte Soprattutto Per quanto riguarda Il tramonto E l'alba Di conseguenza In più Hanno tolto Dalla Parte superiore Dalla barra superiore Della finestra L'indicazione L'indicazione Degli fps Che Da quanto indicato Sembrava Ridurre le prestazioni Del gioco In alcuni Sistemi In alcuni Su alcuni computer Ma Le riduceva Notevolmente Di conseguenza Hanno deciso Hanno deciso Di togliere L'indicazione Degli fps Da là in alto Ok È giorno Good night Adesso dice Good night Prima dicevo Good morning Boh Comunque E Quindi Questo è Finish quantum Questo è quanto E Per questo video Credo che sia Abbastanza Perché vi ho annoiato Praticamente per tutto il video Facciamo una cosa Andiamo a provare Il mining drill M 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 Il mining drill MKM Ma io ho sempre dei problemi Con il mining drill MK Il mining drill Marcus Kron Ah C'è uno zombie Omg Via Muori 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 Ok Dovrò farmi una spada Assolutamente E Il mining drill Marcus Kron 3 Che avrà Le seguenti funzioni Funzione 1 Single node Non scava Ah E scarico Ah E scarico Mi hanno punito Perché è scarico No Non riesco a uscire Usciamo Andiamocene da questa gabbia di matti Via 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 Veloci Veloci Adesso mi ricordo come si salta Chi non l'avesse visto nello scorso video Dimostravo quanto non so Saltare Ciao pecora Ciao pecora Eppure in single node Ma se scarico Non scarica Ah ah Però la batbox Non funziona Perché C'è un cambiamento Da tecnica Di cui parlerò Nel prossimo video Quindi con questo Secondo fail Dell'MK3 Lo riusciremo mai a provare Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video A cui Dovrete assolutamente Dare una visualizzazione Perché L'MK3 Vi lascio così Con la suspense L'MK3 Come funzionerà Quali saranno le sue Potentissime opzioni Per soddisfare Al meglio Le richieste di ogni minatore Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti